Mandorle tralinate, super croccanti, vediamo insieme come preparare. Per prima cosa prendiamo una padella antiaderente e mettiamo lo stesso peso di mandorle e zucchero. Unire 100 ml di acqua, aggiungiamo la cannella e poi un po' di essenza vaniglia. Facciamo cuocere a fiamma bassa fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto per bene. Appena l'acqua si assorbe togliamo dal fuoco e mescoliamo. Successivamente portate nuovamente sul fuoco e lasciamo sciogliere di nuovo. Serviranno davvero pochissimi minuti. Eccoli pronti. Sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta.